Ben ritrovati, un saluto ai telespettatori di Bergamo TV, ben ritrovati gli amici che si ascoltano attraverso le frequenze di radio alta, quindi se siete in viaggio, in mobilità, buon viaggio nel vostro rientro, verso la sede finale del vostro lavoro o perché no, verso casa. Per noi il nostro viaggio è quello informativo che ci porta alla nostra prima serata, al telegiornale di Bergamo TV e a questa lunga serata e che questa sera Bergamo TV dedicherà alla donata nazionale degli Alpi. Tra gli ingredienti di oggi qualche bel consiglio per vivere bene la propria età e poi ci spostiamo decisamente dall'argomento perché vi parliamo di un affascinante musical che si terra proprio a Brescia prossimamente. Poi ci occupiamo di meteorologia perché vedo su tutti i siti web apparire allarmi o comunque a 24-48 ore freddo e temporale, il temporale ci sta al freddo, sono curioso di sentire tra poco gli amici di 3B medio. Dopodiché arriva il tenente Locatelli con il suo codice della strada e risponderà in diretta alle vostre telefonate. Saluto l'ospite che è venuto a trovarsi, la signora Jessica Altieri, grazie di essere venuta a trovarsi, buonasera. Buonasera. Quella di cosa ci occupiamo? Una bella signora che si occupa di bellezza e ci darà dei consigli per continuare a vivere serenamente la propria età a tutta l'età, magari con qualche piccolo consiglio, nel grande mondo dell'estetica che negli ultimi 10-20 anni è diventato un punto di riferimento per aspetti utili, piccoli ritocchi, piccole grandi cose e aspetti un po' degenerativi. Voi siete una struttura che si chiama Lab 42, avete il quartier generale a Brescia e adesso da un mesetto avete anche a Bergamo una sede. Parliamo di questo aspetto, lei è una bella signora, però le donne non sono mai contenti, ma anche gli uomini in questa ultima fase, di cosa vi occupate? Noi da ormai qualche anno ci occupiamo, diciamo che la nostra attività inizia come estetica specialistica e poi si rivolge sempre di più ad un'estetica sempre più specializzata fino a diventare ad oggi un ambulatorio a tutti gli effetti di medicina estetica. Quindi ci occupiamo a 360 gradi sia del corpo e del viso attraverso macchinari di ultima generazione per quanto riguarda la parte diciamo sempre di medicina fino ad arrivare alla parte iniettiva e quindi parliamo proprio di medicina estetica a tutti gli effetti. Quindi ci occupiamo di collaborare con dei medici altamente qualificati all'interno delle nostre strutture. Ecco prima di arrivare ai dettagli, parliamo un po' della vostra esperienza. Voi avete una sede a Brescia e vi siete così allargati in quel territorio, avete già due o tre sede in quella zona, quindi da più di dieci anni operate. Sì, dodici anni esattamente, siamo a Brescia, poi ci siamo allargati sul territorio della provincia Padeng e Rovato, successivamente a Verona e abbiamo deciso da un mese di arrivare anche a Bergamo perché c'era molta richiesta. Perché voi siete a Bergamo nel centro della città, in via Matris Domino, una bella zona ai piedi di città alta, anche un bel colpo d'occhio guardandosi attorno. Sì, molto. E qui portate la vostra esperienza, che credo che in questi dieci anni, dodici, ne siano cambiate veramente tante di cose. Assolutamente, è proprio cambiato l'approccio nel confronto della bellezza, intesa proprio come medicina. Ed è proprio quello che voglio trasmettere oggi, è che trattare il proprio corpo e il proprio viso attraverso la medicina estetica non vuol dire cambiare o modificare le proprie fisionomie, ma vuol dire semplicemente andare incontro all'età attraverso delle nuove tecniche assolutamente microinvasive con prodotti di altissima qualità che aiutano veramente ad invecchiare insieme, quindi si invecchia bene. Questo voglio che arrivi come messaggio. Senta, io parlo un po' da uomo, da marito, da padre di famiglia, però si vedono persone, più che altro donne, però anche gli uomini adesso cominciano ad essere un po' così oggetto di questo interesse, ma che a distanza di magari di dieci, di dodici anni, rispetto a qualche retocco, oggi hanno una fisionomia che non so se li soddisfa perché si è trasformato, non è più come il primo anno. Ma negli ultimi anni è proprio cambiata l'approccio. Spero insomma che sia arrivato, che il cambiamento c'è stato. Qualche anno fa venivano utilizzati anche dei prodotti che non erano prodotti naturali, ma erano abbastanza sintetici. Oggi la medicina è di fatto a tutti gli effetti il rispetto della pelle, è invecchiare bene, quindi attraverso prodotti come l'acido aeronico puro o biorivitalizzazioni vitaminiche ed altro, perché poi se stiamo a delencare tutti i trattamenti non ci basterebbe la trasmissione, è proprio rispettare la fisionomia di ogni singola persona, sia per quanto riguarda il viso che per quanto riguarda il corpo, mantenendo la bellezza come primo approccio, ma comunque nel rispetto della persona. Quindi non bisogna cambiare, bisogna invecchiare bene. Il messaggio è qualche ruga in meno fa piacere a tutti, ma non voler avere vent'anni quando magari una donna ne ha cinquanta. Il concetto di estetica specialistica non invasiva è quello che lei sta cercando di portare avanti. Anche perché la domanda che faccio io da un esperto è che non è tanto il risultato immediato a sei mesi, ma il problema è a sei anni. Se parliamo di medicina non parliamo di chirurgia, quindi nulla è definitivo. Sono tutti approcci che comunque nel tempo devono essere necessariamente riassorbiti dal nostro organismo o macchinari che in qualche modo non sono assolutamente invasivi. Vi intendo dire che attraverso della tecnologia si vanno a lavorare determinati inestetismi, ma ripeto senza ago, quindi senza invadere assolutamente l'epidermide. Quindi ci fermiamo dei trattamenti di estetica specialistica proprio quando non vogliamo usare nulla che sia invasivo. Senta, poi immagino che il primo apporto sia anche un po' empatico psicologico con la persona che viene, che magari ha un'idea di qualcosa che a lei non piace e voi magari dite guarda però questo si può valorizzare in un altro modo. Credo che sia molto delicato questo passaggio. Sicuramente è l'approccio iniziale di offrire sempre una consulenza gratuita alle persone che vogliono venire a conoscerci, dove si fa insieme un'analisi, si cercano di capire le esigenze delle persone e in base a quello si cerca di creare un percorso di trattamenti sinergici per arrivare a un determinato obiettivo. Senta, voi avete questa sera qui nel cuore di Bergamo operato su varie sedi. Avete un sito importante che è un po' un punto di riferimento. Lei mi dice ma siamo venuti a Bergamo perché c'era molto interesse. Immagino che avevate già una rete di contatti che proprio da Bergamo si muoveva per venire da voi. Sicuramente, soprattutto sulla sede di Rovato perché diciamo che è la prima sede vicina a Bergamo. Abbiamo avuto molte richieste, quindi sul sito telefonate al nostro numero verde e abbiamo deciso, avendo già del personale da tempo qualificato all'interno delle nostre strutture che diciamo abitava più nella zona di Bergamo e quindi Treviglio. Faccio degli esempi di colleghe che lavorano con me a Bergamo e abbiamo deciso di aprire questa nuova sede come nuova esperienza e devo dire che siamo molto contenti. Senta, questo della formazione, dell'esperienza vale per tutte le aziende in qualsiasi campo. Cioè lavorare con un'azienda che ha lunghe esperienze e ha personale che, per carità, largo ai giovani, ma che ha maturato un percorso, credo che sia un altro aspetto delicato. È fondamentale per noi. Oggi la formazione è alla base, l'esperienza che posso avere io da vent'anni nel settore dell'estetica che poi è diventata la mia anche una passione e poi introdurre all'interno delle strutture dei medici qualificati nella medicina e chirurghi che hanno dato il loro supporto, che è quello che poteva mancare all'estetista. Oggi devo dire che l'unione di queste due realtà, quindi l'estetica e la medicina, ha portato le nostre realtà ad essere diverse. Credo che il vostro campo, ma mi correga, sia sviluppato proprio per questa voglia di non invecchiare, che è un sogno della bellezza eterna e della vita eterna. E poi si sia dilatato anche, credo, qualche abuso, perché vedo anche dei giovanissimi o giovanissimi che immaginano di potere come una piccola carie cambiare se stessi già a un'età che è ancora molto lontana dall'invecchiamento. Ma questo sta un po' a noi, poi indirizzare le persone e farle anche ragionare. Ragazze di vent'anni che chiedono determinati trattamenti si cerca di lavorare magari sulla prevenzione, evitiamo di fare trattamenti che possano poi anche, a parte che la medicina, ripeto, non è definitiva, quindi comunque il trattamento che viene fatto nel tempo si riassorbe e non cambia la fisionomia, però si cerca di evitare, insomma, di far ragionare le persone. Stiamo parlando sempre al femminile, però io lo conosco anche io qualcuno che è un colpettino, una tiratina, abbiamo tantissimi uomini invece che chiedono di trattare il viso, di trattare le microrughe, di trattare la diposità addominale e quindi assolutamente anche il pubblico maschile oggi per noi è un ottimo cliente. Per la diposità addominale, che chiamerei pancetta, è un must, voglio dire ma come si tratta, visto che allarghiamo il tema. Adesso vogliamo entrare... Si potrebbe fare gli addominali, non in palestra, no? Si potrebbe, ma magari, fosse solo facile facendo attività fisica, forse non sarei qua a parlarne. Sicuramente... Però è sacrificio fare gli addominali. È sacrificio, però attivando dei trattamenti che vanno a stimolare, diciamo, il dimagrimento localizzato attraverso delle tecniche, si può aiutare durante una fase di dimagrimento la perdita di grasso nelle zone interessate, non solo in maniera generale. Quindi anche voi, maschi all'ascolto, sappiate che si può fare qualcosa, a parte camminare, correre, mangiare poco e fare attività fisica, che aiuta tutti. Assolutamente, però se noi mettiamo del grasso locale disponibile al nostro organismo durante questa fase, diciamo che il nostro organismo tende a perdere il grasso dove a noi interessa. Ecco, e come avviene l'approccio con l'Ab42 Altieri, che poi è la vostra famiglia, bisogna essere lei il fratello e qualcun'altra famiglia? Io e mio fratello, diciamo, le due persone che hanno iniziato questa attività, io da tanti anni, poi lui mi ha seguito, c'è anche il nostro cognato, che è assolutamente un'azienda piccola, familiare, ma che crede tantissimo in quello che si fa e siamo molto contenti. Abbiamo comunque quasi sei ambulatori, la prossima apertura sarà anche su Mantua e quindi ci stiamo... Voglio che vi danno fiducia. Ci danno fiducia, sì. Ebbè anche credo che il passapora sia fondamentale. Sono andato, mi sono trovato bene, mi sono trovato male, soprattutto in questo campo così delicato. Diciamo anche che siamo molto presenti, quindi anche il cliente finale, io sono Jessica e ci sono i giro tutti gli ambulatori, quindi le persone mi conoscono, le nostre clienti. Senta, come viene l'approccio? Vengo da lei e dico, guardi, non so, a una certa età potrei fare... Come viene l'approccio? L'approccio viene... Arriva qualcuno già che dice, ma io voglio questo, questo. Uno, magari qualcuno arriva chiedendo qualcosa nello specifico, poi viene sempre accolto in una fase di consulenza medica, quindi il medico accoglie la persona, io lo chiamo il cliente, viene fatta un'analisi più approfondita, si capiscono quali sono le esigenze e si cerca di proporre quantomeno un percorso che sia quello che vuole dare poi l'obiettivo finale, come può essere anche il singolo trattamento, dipende che cosa ci viene chiesto. Sento, lei prima ha usato anche il termine prevenzione, nel senso che uno può arrivare, soprattutto se è giovane, e avere consigli e piccoli, non so, accorgimenti o anche piccole cure che poi lo aiutano a spostare nel tempo interventi magari un po' più... Se oggi la medicina venisse capita bene e si approcciasse anticipatamente all'inestetismo, probabilmente certe rughe, certe lassità, alcuni grassi, grasso diciamo localizzato, si potrebbe sicuramente evitare o quantomeno rallentarne un processo, perché poi fa parte della natura. Senta, però colgo dalle sue parole un aspetto che mi piace, del fatto che c'è un limite e quindi è fondamentale anche per voi, nei confronti del vostro interlocutore, dire dove fermarsi, perché insomma credo che a una certa età non si può pretendere di essere un'altra persona, anche se vede in giro a volte delle cose che mi lasciano un po' perpresso. È difficile delle volte far ragionare alcune persone che chiedono davvero di voler cambiare in alcuni casi, noi siamo molto contro, io dico la verità, cerchiamo di far ragionare le persone, ci limitiamo a fare il nostro lavoro a nostra immagine, noi non vogliamo che dai centri e dagli ambulatori lab possano venirne fuori delle persone che abbiano davvero cambiato, fisionomia non è il nostro approccio. Senta, abbiamo gli ultimi minuti e soprattutto per chi ci vede in televisione, propongo di lanciare un video che è un'anteprima che ci hai lanciato, è un bel video, lo racconto perché l'ho visto prima e per chi è in radio. C'è una bella signora come lei, voglio dire, che si muove attraverso le vie di una città che è Verona, una città affascinante, ricca di storie, tradizioni, ricordi e in pratica è una bella signora che si muove, felice del proprio essere, guardata e osservata, poi alla fine incontra un giovane che alla fine ritrova all'interno dell'Ap 42 della vostra struttura, che poi è il medico che l'ha curata o comunque l'ha seguita e mi piace questo messaggio che dà l'idea del benessere, di una bella signora che si muove all'interno di luoghi affascinanti e storici, che vive bene la propria giornata e poi vabbè l'aspetto vostro finisce da voi, però è anche un po' merito vostro e a suo che ha capito qual è il suo limite e voi che l'avete aiutata. Sì ma perché noi vogliamo trasmettere come da nostra frase, la bellezza è con te ogni giorno, inteso che la bellezza accompagna tutti i giorni noi donne e noi uomini, quindi la bellezza parte dall'uscire di casa, da essere leggermente appunto truccata, ben pettinata ma niente di troppo eccessivo, quindi accompagnare tutti i giorni la bellezza non vuol dire eccedere, vuol dire viverla tutti i giorni con serenità. Bene, usa parole rassicuranti, già come parla lei se tutta la struttura è così serena, anche perché credo veramente che sia un argomento delicato questo, del toccare il corpo, io lo chiamo così a qualsiasi livello. È sicuramente delicato ma oggi devo dire che c'è tantissima richiesta, bisogna veramente saper rispondere a tutti nella maniera più corretta e secondo me più giusta possibile. Noi abbiamo questa filosofia e speriamo ci possa continuare a soddisfare come è stato fino ad oggi. La signora Jessica Altieri, questo visore assicurante, lei e la sua famiglia da 12 anni portano avanti questa attività, a Bergamo adesso c'è un punto di riferimento, a Bergamo in via Mattris Domini e poi c'è un sito internet, lab42.it dove trovate altre informazioni. Allora benvenuta a Bergamo, buon lavoro. Grazie, grazie. Mi raccomando, tratti bene Bergamaschi perché se no la richiamo. Grazie a voi di avermi ospitata. Grazie a voi, buon lavoro, buona serata e noi ci ritroviamo tra poco, andiamo ad occuparci di un bel musical e andiamo a Parigi.